L'associazione 50 e più Pesaro Urbino organizza anche quest'anno un importante convegno in collaborazione con Terziario Donna Confcommercio e Stella Scarpa Beauty Personal Trainer. Si parlerà di come l'arte e il bello influenzano la salute. L'appuntamento è per domenica 27 ottobre alle ore 10 presso la Sala Convegni Confcommercio, strada delle Marche 58 a Pesaro.